Buongiorno clienti vecchi e futuri, siamo qui al Coccaro Beach, abbiamo iniziato una nuova stagione da una quindicina di giorni a questa parte, il tempo quest'anno sembra promettere una bella e ricca stagione di sole e oggi siamo qui per presentarvi un caffè scecchelato che correggiamo con del frangelico che è un liquore gustoso alla nocciola che può essere bevuto sia puro o con ghiaccio o nel caffè allora vediamo questa preparazione con un semplice shaker, un po' di 5 cubetti di ghiaccio, un caffè, un caffè normale due cucchiaini di zucchero di canna e diciamo l'ingrediente segreto che sarebbe un mezzo cucchiaino di caffè solubile e il frangelico, lo mettiamo qui così si vede meglio la porzione è mezza tazzina di caffè adesso dovremmo shakerare il tutto solo che facciamo una piccola decorazione al bicchiere ci mettiamo un po' di cacao giusto per rendere un po' più dolce questo caffè adesso passiamo a shakerare dovrebbe essere pronto il colore sembra ottimo e finiamo con decorare una bucetta di arancia va bene? alla prossima signori